Sindaco di Fisciano, dottor Vincenzo Sessa, alla presentazione dell'Irno Ethno Folk Festival. Questa manifestazione che abbina cultura, storia, tradizioni, musica, ce la può illustrare? Sì, questo è il secondo anno che mettiamo in campo questa manifestazione. Già c'è stata una prima edizione dell'anno scorso che ha riscosso un ottimo successo. Ringraziamo la Regione Campania per la possibilità che ci ha dato, visto che realizziamo grazie ai fondi del poco turismo messi in campo dall'azione regionale. L'Irno Ethno Folk Festival, come hai detto tu, è un connubio tra storia, tradizione, intrattenimento, prodotti tipici. Ci saranno vari, nei weekend di dicembre, perché quest'anno abbiamo pensato di farla a dicembre abbinandolo al villaggio di Babbo Natale, ci saranno varie iniziative per far riscoprire le bellezze del nostro territorio, come Rosi Naturalistica di Frassinetto, il Convento di San Michele e tanti altri sentieri che abbiamo sul nostro territorio. La sera ci saranno degli intrattenimenti non solo musicali, ma di vario genere, con artisti di rilevo nazionale, che permetteranno appunto di far conoscere anche la musica popolare sul nostro territorio, che è già presente con vari gruppi di Fisciano che si esibiranno. Questo abbiamo pensato di farlo a dicembre perché pensiamo di poter attirare ancora più persone rispetto allo scorso anno e abbinandolo al villaggio di Babbo Natale riusciremo a dare un'offerta a 360 gradi che vada ai più piccoli fino alle persone più adulte. Infatti il Sindaco in una precedente intervista aveva anche sottolineato l'importanza della condivisione e dell'unità tra le frazioni del Comune di Fisciano perché questi sono appuntamenti in cui si richiamano persone e c'è l'unità. Sì, la nostra azione amministrativa si sta svolgendo sempre di più, cercando di unire tutte le frazioni del nostro territorio, di fare di Fisciano un'unica grande comunità che rema tutta nella stessa direzione. All'interno del villaggio ci esibiranno vari gruppi, varie associazioni, varie oratorie, le scuole di tutto il Comune di Fisciano. Questa è la nostra mission principale, mettere in rete tutte le realtà che ci circondano. Proprio per questo siamo in collaborazione anche con delle associazioni universitarie come Davimedia che ci permette di dare al nostro territorio anche un'offerta culturale. Quindi mettere in rete tutte le realtà del nostro territorio vuol dire far crescere ancora di più il nostro Comune. Un'ultima cosa, ricordiamo l'appuntamento per l'inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. Sì, il primo dicembre alle 18.30 inaugureremo il villaggio, anche lì ci sarà il giardino incantato, ci saranno degli stand di prodotti tipici, ci saranno tanti spettacoli ma soprattutto tante animazioni per i più piccoli e cercheremo di rivivere quando più possibile il vero spirito natalizio. Sì, il 2 dicembre prende forma l'Irno Etno Folk Festival, giunto alla seconda edizione. Un progetto finanziato dalla Regione Campania con l'assessorato allo sviluppo e la promozione del turismo. Una manifestazione pensata innanzitutto per il turismo sul nostro territorio. Crediamo molto nel turismo dei grandi eventi. Questo lo reputiamo un grande evento perché avrà la partecipazione di artisti di rilevanza nazionale. Lo abbiamo concepito per valorizzare innanzitutto quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, quindi le risorse ambientali, con dei sentieri. Il 2 dicembre partiamo con dei sentieri nell'area naturalistica di Frassinetto, con delle guide esperte faremo visitare quelli che sono i percorsi che si snodano durante il bosco all'interno del Parco Nazionale dei Monti Picentini. Ci sono dei percorsi didattici con delle schede informative che spiegano la flora e la fauna e sarà bello avere questo contatto con la natura. La domenica mattina per tre weekend avremo invece dei tour culturali per conoscere quelle che sono invece dal punto di vista dei palazzi e delle chiese importanti quello che è il nostro patrimonio artistico-culturale. La sera ci divertiamo con i concerti, musica popolare, etno-folk e ci saranno veramente due concerti a sera nei weekend del 9-16 dicembre e il 14-18 dicembre avremo in passaggio qui da noi con uno spettacolo Gene Gnocchi e Paolo Ruffini. Quindi musica, cultura, storia, tradizioni, ci può anticipare un po' quelli che sono i gruppi musicali che faranno parte di questo Irno Etno Folk Festival? Sì, avremo il 9 dicembre la Voce del Popolo e i So Ballera, poi avremo a seguire ancora negli altri giorni Folk e Migra, avremo la Paranza del Geco, avremo Terra Mares, Pasquale e Annone, davvero un bel parterre. Sì, come abbiamo ribadito in conferenza stampa, penso che questo rapporto sudalizio tra l'Aimedia che è questo progetto culturale dell'Università del Sud di Salerno e il Comune di Fisciano si stia rafforzando sempre di più. È già nato nell'anno scorso e abbiamo avuto diverse e belle occasioni di portare tanti ospiti qua da noi ma soprattutto tanto pubblico e questo pubblico ha determinato anche questa famosa crescita di cui parlava il dottore Prudenti, il consigliere comunale che sembra sia stata anche certificata da un punto di vista ufficiale, provinciale e che a noi fa assolutamente piacere. Quest'anno si ribadisce questa collaborazione, ovviamente l'Irno Folk Festival è un'operazione che coinvolgerà tutto il Comune di Fisciano per l'intero mese di dicembre. Abbiamo pensato, cercando di essere trasversali al massimo, dando delle belle occasioni ai ragazzi e ai più giovani ma anche non trascurando un pubblico un po' più adulto per queste attività che andremo a fare. Musica, tanta musica etno che proviene da tutta Italia. Sostanzialmente come spiegavamo ci saranno otto gruppi che saranno dal Piemonte, dal Lazio, dalla Puglia e chiaramente alcuni campani. Abbiamo due star nazionali che verranno a farci divertire un pochettino a farci passare una serata un po' più leggera come Gene Gnocchi e Paolo Ruffini. Collateralmente c'è anche il villaggio di Babbo Natale. Insomma, penso che quest'anno veramente ci sia un ulteriore passo in avanti per questa attività. Ecco, dicevamo anche che l'Irno Ethno Folk Festival unisce cultura, tradizioni, storia, arte. Quindi un modo anche per far conoscere all'esterno le realtà del Comune di Fisciano. Sì, assolutamente. Fisciano è, insomma, anche grazie all'Università è diventato un Comune guida in tutti i sensi e riconosciuto dappertutto. Perché non far conoscere a questo punto le nostre tradizioni? Le nostre tradizioni ancora che esistono come piccoli anfratti dove si lavora ancora il rame, l'artigianato nostro. Ci sono tante aziende del settore alimentare della nostra zona che ci danno delle bellissime soddisfazioni sono conosciute dappertutto. Ci sono i nostri paesaggi e Fisciano è un bellissimo comune. La zona alta di San Michele oppure Penta con le sue tradizioni, l'Ancusi che forse è la frazione più giovane. Ma insomma, tutte le frazioni nostre veramente, insomma, hanno sempre qualcosa da dire e le consigliamo. Dottore, solo un'ultima cosa. Ricordiamo a partire dal primo dicembre con l'inaugurazione del villaggio di Babbo Natale i principali eventi, li ricordiamo. E la location? La location è la villa comunale dove ci sarà in questo palatenda che si sta allestendo proprio in queste ore dove si svolgeranno un po' tutte le attività e che saranno mattutine, serali, pomeridiane. Sarà un mese in tempo. Le date sono 9, 10 e 16 e 17 da un punto di vista musicale. Il 14 c'è Gene Gnocchi e il 18 Paolo Ruffini.